come funziona, poi il secondo, oppure cantati insieme bene, si capisce? ok, speriamo poi vediamo che cosa che non posso fare il potenzione, mi salvo e le lette a piedi il tuo volo è quasi in fretta mi far c'è da l'intercere all'improvviso trovo gli studi di decente ma si trova sui occhi la prima cosa è il po' la testa in compagnia mi è bella mia, dai, va baffanculo 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 per darci molto cosa è il peggio che ho fatto se scrivo devo bere via pisciate la volta la cosa fatta è bene così tanto che mi va non riesco a respirare americano no morire anche come morire questo cuore sprecendo solo milioni sui piedi non è la morte mi devo soltanto il fuoco sentito il primo rischio soltanto gli occhi basso soprattutto il mio respiro a casa si trova ma non è la morte non è la morte ma non è la morte non è la morte per darci più i piedi non è la morte ma non è la morte Morire anche il cuore, morire questo cuore Non riesco a respirare, americano no La cosa fa da gare così tanto che mi va Non ci vuol vedere quando ti rompe la rose Papacura, papacura, papacura Papacura, papacura Papacura, papacura Papacura, papacura Ok ragazzi, non è finito Lasciamo con i giusti di uomo, è stato un piacere E ci vediamo al prossimo giorno E mi raccomando, fate i bravi Tante bellissime cose Ciao Mi dovete aiutare a scendere Io devo dormire con il basso addosso Faccio un pezzo così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti